Dopo il lungo Consiglio Comunale del 19 gennaio che vedeva la trattazione tra gli argomenti all'ordine del giorno del punto dedicato all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, giunge una nuova convocazione in seduta straordinaria da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Lucera di Carlo in prima convocazione giorno 25 gennaio alle ore 14 e in seconda convocazione alle ore 9 del giorno 26 gennaio. in videoconferenza. Tra gli argomenti all'ordine del giorno ci saranno temi importanti per la città. Si parlerà infatti del pronto soccorso e del Palazzo di Giustizia di Lucera. Altro punto la realizzazione di un complesso turistico ricettivo in agro di Lucera. La seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa per la trasparenza sul sito istituzionale del Comune stesso in diretta e indifferita.